Si sono spostate ad Arezzo le zone dove si spaccia droga a pochi passi dal parco del Pionta, solo pochi mesi fa, appunto, ritrovo di spacciatori e consumatori. Ci troviamo in questo momento in via Amerigo Vespucci. I cartelli che vedete alle mie spalle, ecco il posto dove si vende la morte, vendita di droga più avanti, continuate dritto, sono stati apposti, ovviamente, in maniera polemica da chi evidentemente con i propri occhi appunto riesce a vedere quello che accade in questo piccolo parco alle mie spalle. Confinante con una scuola per l'infanzia, con un parco pubblico, da qui si sentono benissimo anche le grida, insomma, dei bambini che giocano e a pochi passi evidentemente invece si spaccia la droga. Si tratta dell'area verde in via Amerigo Vespucci ad Arezzo che confina con la scuola per l'infanzia Gianni Rodari. L'iniziativa provocatoria dei residenti è servita per sollevare il problema. Un appello accorato accompagnato da un gesto di impatto per cercare di dare maggiore rilievo a un problema enorme per chi abita in questa zona. Poco lontano al parco del Pionta le opinioni sono contrastanti. C'è chi dice, soprattutto di giorno, che la situazione è migliorata e chi invece la pensa diversamente. Allora, la mia esperienza è limitata al giorno perché io vengo qui a insegnare e quindi non ci sono mai la sera. Alcune studentesse mi riferiscono di difficoltà, però non ho esperienze dirette. Sinceramente è uno dei parchi più belli che ci sono a Arezzo. Tenuto non benissimo. Come vedi ci sono persone con le bottiglie in mano, là in fondo. Magari la mattina quando passo io non c'è lo spaccio, non ci sono queste cose. Però diciamo che sicuramente nel pomeriggio e nella sera cambia un attimino. Io lo trovo migliorato, sì, sì. Anche l'illuminazione la sera, fino a tardi si può passeggiare. Insomma, io vengo con lui, quindi meno paura. Ecco, hanno tagliato le siepi, quindi è visibile da lontano se ci sono delle persone. Ecco, sì, sì. Grazie. Grazie. Grazie.